Sono state due giornate molto interessanti, ieri molto bello perché io personalmente apprezzo molto l'idea di avere un po' uno scenario complessivo su dove va l'economia, quali sono le grandi sfide, quindi mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto anche la parte sulla scienza e la tecnologia per capire quali sono un po' le grandi cose su cui si lavora oggi l'Europa, molto bello, sempre molto interessante, le sfide, questo è un momento anche in cui probabilmente ci possono essere dei cambiamenti per l'Europa, questa parte ovviamente sulla sostenibilità, visto anche il lavoro che faccio mi interessa molto, sono state delle belle cose, adesso ci aspetta Brexit e poi il focus sugli Stati Uniti, quindi direi un giudizio estremamente positivo, è sempre un approfondimento bello, ti rimangono degli stimoli interessanti di ragionamento e di riflessione.